gentilissimi ascoltatori di radio buon consiglio ben ritrovati in linea sulle frequenze di questa trasmissione mariana de maria nunquansatis giunta ormai alla diciannovesima puntata e oggi avremo da approfondire un po il tema della corredenzione la volta scorsa abbiamo visto bene l'opera della redenzione quindi cercando di capire in senso proprio stretto teologico e soteriologico si direbbe con terminologia un po complicata tecnica che cosa è successo con l'opera della redenzione quindi il riscatto che gesù ha pagato al padre cioè tutto il suo sangue innocente per strappare gli uomini dalla schiavitù del demonio abbiamo spiegato anche perché è stata necessaria una cosa di questo genere perché essendo la sua morte la sua uccisione la sua sofferenza un'opera di prevaricazione ingiusta da parte del demonio appunto perché lui era innocente per questa ingiustizia fatta dal demonio perpetrata contro di lui chiunque invoca quel sangue su di sé che giustamente appartiene al demonio perché ha peccato e quindi è passato sotto il suo potere viene automaticamente liberato e questo sacrificio inoltre riconcilia perfettamente l'umanità al padre perché è offerto non soltanto da un innocente ma da un soggetto che ha la dignità di dio e quindi come è infinita è l'offesa fatta dall'uomo a dio col peccato non perché il peccato non sia un atto limitato ma perché infinito è il soggetto offeso così questa riparazione è stata offerta dal padre da un soggetto della sua stessa dignità che è il figlio di dio questa proprio in due parole la sintesi della puntata scorsa dentro questo orizzonte adesso dobbiamo cominciare a vedere l'opera di maria santissima perché questo ciclo di catechesi appunto prevede di andare a sondare a spiegare ad approfondire a a verificare alcuni titoli mariani che sono quelli appunto della corredentrice il primo poi della mediatrice poi dell'avvocata e non ancora come l'immacolata concezione all'assunzione oggetto di formulazione dogmatica in senso stretto ma vedremo già a partire da adesso e già a partire dalla dall'ultimo capitolo della luma in gentio nel concilio vaticano secondo già la sostanza diciamo così di questi titoli e anche qualche nome tra l'altro perché mediatrice è usato esplicitamente nella nume in gentio come vedremo corredentrice non il termine tecnico ma la frase che comunque indica l'opera della madonna e dobbiamo cominciare a verificare andarla a scoprire e comprendere in che senso maria santissima può definirsi tale teniamo anche presente forse farò qualche riferimento ho scritto un libretto che c'è un'apparizione mariana riconosciuta dalla chiesa che sono le apparizioni di amsterdam avvenute vi dico la data precisa per non dal 1945 al 1959 quindi poco prima del concilio vaticano secondo che tra l'altro la leggente vide e vide come cosa positiva non come cosa negativa questo facciamo subito mettiamo subito le mani avanti e in questa apparizione la madonna fa esplicito riferimento diciamo così a questi titoli chiedendo anche alla chiesa di prenderli in considerazione perché possano diventare oggetto di una definizione dogmatica sono già passati 60 anni quasi dal termine di queste apparizioni ancora questa cosa non c'è ma a mio modestissimo avviso è solo un problema di tempo abbiamo anche visto nel corso delle puntate precedenti e dico anche che dico ultima cosa poi terminiamo l'introduzione che non casualmente c'è stata questa questa tempistica per la crescita della dottrina mariana e per la formulazione dei dogmi mariani cioè il dogma mariano è stato fatto dell'immacolata nel 1854 perché doveva essere fatto nel 1854 per esempio san luigi maria monfort spiega che è molto bene che per esempio della madonna si parla poco nei vangeli e se ne è parlato relativamente poco nel primo millennio perché nel primo millennio abbiamo visto i due dogmi la maternità divina la virginità perpetua sono fondamentalmente corollari cristologici cioè al centro c'era sempre nostro signore ma è chiaro che c'è un motivo no se uno studia la storia della chiesa l'ultimo concilio grande concilio ecumenico sappiamo i primi sei grandi concili ecumenici che sono quelli tra l'altro riconosciuti da tutte le chiese di questo mondo chiese comunità cristiane li riconoscono pure i protestanti li riconoscono pure gli ortodossi eccetera eccetera i primi sei concili furono fondamentalmente dedicati a definire la dottrina trinitaria e la giusta collocazione di nostro signore gesù cristo perché le desi cristologiche hanno fatto il fumo nei primi sei secoli chi diceva che era soltanto un uomo chi diceva che era solo dio chi diceva che era mezzo uomo chi diceva che era un mezzo dio insomma adesso sto semplificando no immaginiamo se dentro questa cosa che dovevi già la chiesa ha fatto fatica è perché alcune eresie cristologiche tipo l'arianesimo per esempio hanno cominciato a serpeggiare in maniera virulenta coinvolgendo membri della gerarchia sacerdoti pure qualche vescovo insomma quindi è stata una battaglia insomma perché il diavolo chiaramente ha cominciato immaginiamo se dentro questo contesto tementi a parlare della corredentrice cioè capite cioè è assolutamente fuori fuori luogo perché già devo capire bene cos'è la redenzione devo capire bene chi è il nostro signor gesù cristo come faccio in quel momento capite quindi lo dico questo perché ricordando sempre il famoso taglio catechetico di questi nostri incontri noi dobbiamo fare sempre attenzione cioè che la storia la guida nostro signore cioè i tempi i momenti e gli interventi divini no anche quando dio lascia fare qualche cosa di lascia che accada qualcosa di negativo senza intervenire subito c'è un motivo d'accordo e il motivo è sempre in gloria quindi questo non significa che uno diventa come dire incosciente o menefredista o atarattico nel senso che non gli importa niente delle cose che gli circolano intorno ma sa che la storia è guidata da nostro signore il diavolo fa il pazzo d'accordo e il signore entro certi limiti lo lascia fare ma non comanda lui comanda dio questo dobbiamo sempre tenerlo presente per cui io sul dogma della della corredentrice non sono preoccupato per niente d'accordo perché sono certissimo d'accordo che a suo tempo questa cosa si farà anche se come la madonna stessa disse ad amsterdam questo costerà tribolazioni perché chiaramente non gli uomini ma il diavolo si metterà di traverso suscitando certamente anche contrasti opposizioni polemiche le solite cose che fa lui chiaramente lui agisce nell'ombra quindi magari molte volte anche qualcuno gli dà una mano diciamo così in perfetta buona fede magari pensando anche di fare gli interessi del signore no vi invito a sentire i recenti interventi insomma su questo tema di papa francesco vede che papa francesco qualcuno si è divertito e dicono io sono rimasto molto sorpreso di questo qui è che in cinque anni di pontificato ha parlato più del diavolo dei cinque papi precedenti rispetto a lui insomma ha parlato più in cinque anni del diavolo che i papi nei cinquant'anni precedenti insomma quindi è segno che è una delle cose molto importanti che lui ricorda è l'azione suddola capite è il lui chiama i diavoli educati cioè quelli che tu te li ritrovi dentro casa senza sapere che ci stanno che è 90 per cento dei casi per questo che noi dobbiamo sempre avere una tanta cautela tanto discernimento molta pagatezza anche quando pensiamo una cosa anche quando una cosa ci sembra giusta anche quando sembra che chi ci muova sia la gloria di dio il bene della chiesa tutto quello che vogliamo ma sempre calma perché il diavolo è furbo d'accordo e il diavolo non deve far paura nelle sue manifestazioni straordinarie questo lo dissi anche a suo tempo che tutti quanti appena appena c'è sta qualcosa che riguarda il diavolo vanno tutti quanti cioè come 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 le mosche no cioè tra il diavolo e i misticismi straordinari ecco quelli sono la tiramosche partono a fiotti le persone no e questo è un problema però perché dovrebbero partire a fiotti a sentire catechesi sull'azione ordinaria del diavolo questo che sto a dire adesso è così come non andava a vedere tutte quante le apparizioni cosa straordinaria ma mettiti in pote santo e benedetto impegno a approfondire la tua fede a cercare di viverla decentemente a formarti sui contenuti della fede sui dieci comandamenti sulla vita cristiana sulla chiesa spetta che accorre soltanto nei vostri dove sembra che ci sia lo straordinario no questo sono tante cose che sembrano apparentemente religiose e a volte certamente qualcuno sta anche in buona fede no però sono mosse da questa nostra da questa cosa molto umana da questa da questo solletico delle cose strane capite ci sono dentro il cuore dell'uomo non so perché sto parlando di queste cose non volevo insomma però seguo un attimo questo pensiero perché potrebbe essere utile no e dentro questa cosa capite e l'azione il diavolo che fa il pazzo e che possiede le persone e l'apparizione x il veggente y nel coso cioè sono sono delle dinamiche che se uno ci pensa perché tu affermate un attimo che te importa a te di vedere il diavolo che strilla attraverso un ossesso che te cambia forse perché non ci credi e allora c'è bisogno di vedere l'ossesso già che non ci credi e c'è bisogno di vedere l'ossesso già questo è un problema capito è un problema perché il diavolo esiste una verità di fede una verità di fede non c'ha bisogno che io vedo l'ossesso per esserne certo d'accordo perché l'ossesso potrebbe anche essere in certi casi ma non voglio parlare del diavolo di ciclo da queste cose qui è un matto d'accordo uno uno psicopatico un allucinato non tutti le manifestazioni straordinarie del demone questo lo sappiamo sono autentiche no ma se anche quello non fosse indemoniato che il diavolo esiste non c'ho nessun dubbio se c'ho la fede perché vado sempre a cercare in giro tutte le cose i santi c'è il filo diretto con forse perché non mi basta la fede divina e cattolica forse perché non sono formato anche nella fede divina e cattolica no anche quando uno dice ma sì ma perché se oggi se ne sente se ne sente tizio se ne sente caio attenzione noi abbiamo san giovanni paolo ii che ci ha già dato un aiuto hai detto dice ma sì ma io ho sentito quel prete che dice quella cosa strana dico calma d'accordo punto primo speriamo che tu abbia capito male bisogna vedere se hai capito bene insomma perché prima di dire che un prete dice una cosa strana bisogna sempre vedere se abbiamo capito bene supponiamo che abbiamo capito bene apri il catechismo della chiesa cattolica d'accordo perché se quel prete dio non voglia d'accordo svalvola un pochino tu non è che stiamo in balia cioè del nulla perché la chiesa cattolica esiste proprio per questo motivo apri il catechismo della chiesa cattolica di che cosa ha parlato quel prete non lo so di contraccezione vai prendi sesto comandamento cosa dice la chiesa sulla contraccezione giovanni paolo ii diceva chi vuole un punto di riferimento sicuro apre il catechismo l'hanno scritto così grosso e così come dire spiegato pure troppo proprio per andare incontro a queste esigenze è chiaro che se uno vede il catechismo un tomo da duemila pagine e rotti insomma gli prende un colpo no tant'è vero che il benedetto sedicesimo le finalizzarono un pochino più piccole la formula di domanda e risposta però e nei dubbi c'è questo no capite cioè queste cose che si muovono dentro il nostro cuore noi non possiamo appena c'è via un'idea in testa secondarla è una cosa religiosa quindi è buona calma calma capite cioè dentro il nostro cuore avete visto no guardate adesso in giro e cosa c'è sta come mai in televisione tutte le serie che fanno sono sempre violenza e sesso perché sono cose che solleticano le basse passioni dell'uomo d'accordo certo una volta era un po' peggio perché insomma la 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 sete di sangue di vedere queste cose qua brutte insomma la sfogavano con gli spettacoli gladiatori la gente moriva sul serio almeno nelle serie tv nelle cose insomma è finzione però sono sempre cose negative no cioè quindi attenzione a quello che ci si muove dentro d'accordo perché l'emotività la pulsionalità la passionalità in cui si trova il nostro cuore deve farci essere sempre molto cauti capite allora questo per dire torniamo cominciamo a tornare indietro così parliamo io sono sicuro che si farà il dogma della corredenzione personalmente questa è una mia opinione personalissima non solo perché ci credo ma perché ritengo che sia una cosa importante tu dici ma ma con una donna tanti anni fa e ancora non si vede assolutamente niente di tutto questo qui e vabbè non si vede ancora niente tutto questo qui perché non non è il caso che si debba vedere non è ancora ora non è ancora non è ancora tempo d'accordo ci sarà ma come non si vede nessun chiaro dell'una ci sarà capite cioè il signore rovescio i potenti dei droni rovescia le situazioni cioè il signore non ci vuole niente che l'aria cambia in men che non si dica capite in tante in tante dinamiche in tante situazioni quindi non bisogna mai preoccuparsi e adesso ci addentriamo dentro questa bellissima e bellissimo ambito ecco nella certe cominciando dal magistero della chiesa come doveroso e vedendo come già i prodromi di questa futura solenne possibile definizione sono già contenuti in quello che la chiesa ha affermato già conosce e già crede allora andiamo in questo senso a leggere subito il paragrafo 61 della lumen gentium che si intitola così maria l'associata al redentore già il titolo si direbbe è tutto un programma allora sentite che belle parole che usa tenete sempre presente quando si studia un testo di un concilio questo vale anche per un'enciclica papale ogni singola parola pesa una tonnellata capite perché i testi vengono formulati nelle commissioni poi approvati nelle commissioni poi presentati all'aula emendati corretti un po come succede per le leggi civili no e poi riformulati e poi capite quindi perché ogni singola espressione pesa ecco ed è scelta con oculatezza per cercare di essere per quanto più possibile precisi in quello che si scrive e nelle intenzioni con cui scrive che poi certamente spettano agli interpreti però più è preciso il linguaggio e meno si presta a possibili arbitrarie o derronee interpretazioni allora qui si legge predestinata fin dall'eternità quale madre di dio insieme all'incarnazione del verbo già qui la beata vergine è stata qui in terra per disposizione della provvidenza divina l'alma madre del redentore divino e attenzione l'associata singolare quattro sottolineature rosse e più di ogni altra di altro generosa e l'umine serva del signore in latino è socia è singulariter prealis generosa socia cioè singolarmente quindi a titolo del tutto personale suo al di sopra degli altri socia generosa socia la socia la collaboratrice avete visto tu che stanno in società sono due soci concependo cristo generandolo nutrendolo presentandolo al padre nel tempio attenzione soffrendo insieme col suo figlio che moriva in croce attenzione ella ha cooperato in modo unico all'opera del salvatore in obbedienza e fede in speranza e carità ardente attenzione per restaurare la vita soprannaturale degli uomini io parlo con voce così alta perché qui c'è già scritto tutto c'è già scritto tutto per questa ragione è stata per noi madre nell'ordine della grazia quindi c'è anche la maternità spirituale qui di Maria che è fondata come vedremo proprio sulla corredenzione allora in questo paragrafetto cioè in mano l'inchilidion vaticanum chiaramente c'è già scritto tutto adesso lo commentiamo brevissimamente e poi introduciamo il tema perché volevo proprio aprirlo in questo modo no allora numero uno cose che già sappiamo il decreto di doppia predestinazione ne parla qui predestinata fin dall'eternità quale madre di Dio insieme all'incarnazione del verbo allora noi dobbiamo sempre pensare qual è stato il primo pensiero che l'eterno Dio che Dio eterno è che esisteva quando non c'era nulla qual è stato il primo pensiero che Dio ha fatto in ordine alla creazione si chiama tecnicamente in teologia il pensiero che Dio fa ad extra ha pensato una cosa immediatamente contestualmente al primo pensiero la seconda cioè che c'è proprio come dire un'antichia un nanosecondo la prima cosa che ha pensato è che il figlio si sarebbe fatto buono e immediatamente dopo lo strumento umano che avrebbe concorso a questo tipo di operazione quindi i primi due pensieri della Santissima Trinità sapete chi sono stati Gesù e Maria sta scritto qui eh capito attenzione che quindi tutta la creazione che noi vediamo questa è dottrina della Chiesa non di Luisa Piccarreta le stesse identiche cose si trovano negli scritti per esempio di questa serva di Dio che io conosco bene le prime due cose che Dio ha pensato sono state Gesù il verbo fatto uomo e Maria la madre di Dio tutto l'universo gli angeli compresi sono stati creati per mezzo ed in funzione ed in vista di questa coppia perché questa coppia presiede a tutta la creazione da un punto di superiorità ok sta scritto qui quindi che cosa dice già questa cosa già insistisse perché già San Tommaso d'Aquino si chiedeva ma era necessario per l'incarnazione del verbo che venisse realizzata per mezzo di una donna era necessaria questa cosa no la risposta è no noi dobbiamo avere un principio fondamentale ragazzi mi raccomando questo non dimenticatelo mai 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 allora quando Dio opera fuori di sé quindi fuori della vita trinitaria non esiste nulla di assolutamente necessario cioè tutto quello che Dio fa lo fa liberamente non perché è necessario ma perché è la cosa migliore da fare perché Dio quando fa una cosa fa le cose da Dio non le fa come noi capito e questo non è dire esattamente la stessa cosa perché se io dico era necessario che ci fosse la Madonna per l'incarnazione del verbo io metto un limite alla Divina Onnipotenza attenzione ma il fatto che Dio abbia tirato fuori insieme questi due pensieri significa che la cosa più perfetta migliore in assoluto da fare era unire Gesù a Maria da sempre da sempre capite che c'è capite quindi ma la Madonna non è un optional nella vita non lo può essere capite ma non perché uno vuole fare come dicono perdonatemi il termine no ci sono alcuni che dispregiano grossolanamente in maniera anche un po' fastidiosa no i devoli della Madonna li chiamano i madonnari come come quelli che che fanno i dipinti della Madonna per terra no cioè attenzione cioè non è che uno si vuole offendere ma tu non puoi capito cioè quando tu dispregi questa cosa tu disprezzi l'altissimo perché al Padre Eterno non gliel'ha ordinato nessuno né era costretto a fare una cosa di questo genere cioè non era costretto a pensare il figlio fatto uomo congiuntamente ad una creatura che sarebbe la Madonna non è uno strumento necessario capite cioè Dio Adamo l'ha creato dal nulla il verbo poteva scendere sulla terra in qualunque forma poteva avere già 30 anni già 33 senza nessuna con la perché Dio non c'ha bisogno di niente Dio gli basta volerla una cosa per farla capite questo è il senso ma se ha fatto così ci sono due cose uno questa era la cosa migliore da fare due questa associazione tra Gesù e Maria non è semplicemente come dire cosa che si è svolta nel tempo ma affonda la propria radice nella volontà eterna di Dio capito quindi non è un optional non è un accessorio una cosa dice vabbè se lo riconosco se no che ce fa come che ce fa ce fa come come che ce fa ed è proprio perché è stata una scelta libera di Dio che è ancora più pesante ma sarebbe stato meno pesante se fosse stata necessaria sotto certi punti di vista perché Dio non fa una cosa se non era migliore ecco perché San Massimiliano diceva noi oggi nel ventesimo secolo non conosciamo quasi niente della Madonna perché cioè capito cioè per far la madre del verbo e sua socia vuol dire e questo è che in quella creatura nostro Signore ci ha concentrato ci ha ammesso ci ha riversato il meglio del meglio del meglio che poteva cioè fuori di ciò che lui è d'accordo perché un altro Dio non si può fare perché Dio non si fa capito quindi Dio non può fare un altro se stesso questo non lo può fare d'accordo non si può quindi ma in un atto creativo è chiaro che un atto creativo è un atto finito è un atto limitato la Madonna è una donna quindi è un ente creato d'accordo non è Dio ma dentro questa creatura ci ha messo capite immaginate che più di questo non ci si poteva mettere di tutto e di più capite cioè noi non ci arriveremo ma io personalmente penso questa è un'altra idea mia personale che neanche in paradiso conosceremo adeguatamente la Madonna ma non perché uno vuole fare come dicono quelli il madonnaro perché è questo il punto capito cioè se c'è questa congiunzione come dire inestricabile quasi e non necessaria ma dipendente della divina volontà tra Maria e Gesù Cristo significa che questa creatura è grande ma perché Dio l'ha fatta tale d'accordo e no che dire grande è dire niente capite ecco quindi predestinata fin dall'eternità con le madri di Dio insieme all'incarnazione del verbo la beata vergine è stata qui in terra attenzione vedete per disposizione della providenza divina lo afferma qui cioè è bellissimo vedere nei documenti magisteriali è bellissimo guardate ascoltare la voce della chiesa qui c'è la voce della chiesa sapete che significa la voce della chiesa è la voce della sposa di Cristo che parla lo stesso linguaggio divino è stata qui in terra per disposizione della providenza divina disposizione della providenza divina che cosa vuol dire vuol dire che Dio ha deciso così vuol dire che Dio ha voluto così d'accordo l'alma madre del redentore divino ha voluto così e cos'altro ha voluto che in quanto predestinata da sempre divenuta sempre per divina disposizione madre del verbo fosse anche sua socia e questo dipende sempre da una divina disposizione cosa significa di nuovo significa che la corredenzione operata da Maria cominciamo subito a mettercelo in testa non era non era assolutamente necessaria no la redenzione operata da Gesù Cristo bastava e avanzava non solo bastava avanzava perché è andato molto al di là di quello che era strettamente necessario per manifestarsi il suo amore però però se c'è una disposizione divina quindi se Dio vuole che all'opera di Cristo che di per sé è già sufficiente e bastante avanzante a redimere il genere umano sia associata la Madonna cosa significa? significa che questa è la cosa migliore da fare e che a questo punto dipendentemente da questa libera scelta dell'Altissimo che poteva anche non fare ma se l'ha fatta evidentemente lui agisce sempre da Dio e quindi è la migliore da fare a quel punto quindi detto tutto questo attenzione a capire bene a quel punto la Madonna deve collaborare se non so guai capite? perché viene frustrato il disegno divino verrebbe frustrato il disegno divino tra l'altro questo vale anche non vi scandalizzate perché Santo Maso d'Aquino dice ma per la redenzione dell'umanità era necessario che succedesse tutto quello che è successo già dovremmo rispondere no? anche alla luce di quello che abbiamo visto nella puntata precedente no non era necessario perché il nostro Signore se voleva avrebbe potuto redimere il mondo in altri miliardi di modi possibili il fatto però che ha scelto questo che cosa significa significa che stante la situazione verificatasi col peccato originale stante il potere acquisito dal demonio stante tutte e tante le condizioni che Dio solo conosce perfettamente in questa situazione la migliore forma di redenzione dell'umanità è quella che è successa e quindi Dio sceglie quella perché Dio fa le cose da Dio non è come noi cioè Dio non si accontenta capite Dio nell'operare è perfettissimo cosa dice il Catismo da San Pio X è l'essere perfettissimo cioè adesso ah no questa è la definizione nozionistica come te pare d'accordo perché comunque cioè in qualche cosa tu te lo devi inventare cioè Dio per antonomasia è la perfezione assoluta capite quindi Dio non fa una cosa se non è assolutamente perfetta non la fa proprio capite non la fa l'imperfezione non esiste in Dio capite e secondo il nostro modo chiaramente di pensare e anche di procedere cioè è chiaro che nelle scelte divine in teoria ci sono un'infinità di variabili possibili quindi quando Dio opta per una è la migliore senza nessun dubbio senza nessun dubbio quindi questa associazione di Maria all'opera del Redentore Lumen Gentium 61 è stata decisa ricito nuovamente per disposizione della provvidenza divina quindi non è cosa assolutamente strettamente necessaria ma decisa dalla Santissima Trinità e conseguentemente a questa decisione allora si che diventa necessaria quindi proseguo la lettura l'alma madre del Redentore divino l'associata singolare e più di ogni altro generosa è l'umile serva del Signore l'umile serva del Signore attenzione humidis ancilla domini in latino ricordiamo che ancilla è l'equivalente del greco dule quindi vuol dire schiava non perché la Madonna Dio trattasse la Madonna come un essere senza dignità d'accordo assolutamente ma perché nel cuore di Maria il suo amore il suo servizio al Signore questo è quello che poi insegnò anche San Luigi Monforte nella cosiddetta santa schiavitù d'amore era come quello di uno schiavo cioè non c'è neanche bisogno che parli che prima ancora che l'hai detto una cosa io già la faccio cioè basta basta proprio capito basta proprio lo stretto indispensabile e così è stata la vita della Madonna dire schiava del Signore è poco perché non c'è non c'è neanche come dire un scenno neanche un come dire secondo il nostro modo di parlare un modo un desiderio dell'Altissimo che la Madonna non abbia fatto vero non c'è non c'è non c'è non c'è assolutamente nessuno che possa in questo minimamente eguagliare questa straordinaria creatura non c'è proseguo la lettura il Romagenzio 61 concependo Cristo attenzione generandolo nutriendolo presentandolo al Padre nel Tempio tutti quanti gesti fatti dalla Madonna adesso li vedremo una volta attenzione soffrendo insieme col suo figlio che moriva in croce ella ha e ecco il punto cooperato attenzione in modo unico all'opera del Salvatore il latino è operi salvatoris singulari prorsus modo cooperata est vediamo ancora che il termine è singularis perché vedremo che la corredenzione di Maria è un fenomeno unico ho accennato la volta scorsa che tutti noi siamo dei piccoli corredentori San Paolo scrive sono lieto delle sofferenze che sto vivendo e completo nella mia carne quello che manca le sofferenze di Cristo a favore del suo corpo che era chiesa questa frase Paolina è il fondamento della nostra personale associazione all'opera di redenzione che vedremo si situa su un piano completamente differente e enormemente inferiore e subordinato sia a quello di Cristo che a quello della Madonna ma la Madonna sta su un altro pianeta la Madonna coopera anche nel nostro senso ma in un senso solo suo che cominceremo a vedere dalla prossima volta quando cominceremo a entrare nel merito della corredenzione mariana cioè in che senso la Madonna è corredentrice però qui cooperato quindi la Madonna cooperato all'opera del salvatore non all'opera di Cristo all'opera del salvatore cioè all'opera della salvezza cioè alla redenzione lo ha fatto e lo ha fatto in modo unico vedremo qual è questo modo unico e vedremo anche che in teologia mariana io sono d'accordissimo questa cooperazione unica di Maria ha preso anche delle connotazioni teologiche ben precise allora ha cooperato in modo unico l'opera del salvatore attenzione con quali disposizioni in obbedienza e fede anzitutto l'obbedienza Cristo come ci ha redenti cosa scrive san paolo nell'inno nel cosiddetto inno alla kenosi filippesi due si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce e la madonna ha cooperato in modo unico l'opera del salvatore come aggiunto in obbedienza e fede vedremo qui la fede di Maria nell'opera della della corredenzione la fede facciamo un'anticipazione la madonna è stata l'unica che ha creduto senza dubitare alla risurrezione di Gesù ed è stata capace di vivere la sofferenza atroce della seconda parte del venerdì santo di tutto il sabato santo rimanendo ferma e granitica nella fede che il figlio sarebbe risorto unica questa è dottrina comune della chiesa quindi su questo non si discute non ci ha creduto nessuno dopo aver visto quella tragedia che veramente questo sarebbe risorto lei si obbedienza e fede poi speranza e carità ardente quindi abbiamo le tre virtù teologali nell'opera di collaborazione di Maria alla redenzione e l'obbedienza guarda un po' l'obbedienza e prima era stata definita l'umile serva del Signore quindi vogliamo cominciare a fare un po' quante sono le piaghe di nostro Signore Gesù Cristo Gesù Cristo ha cinque piaghe giusto Gesù Cristo c'ha cinque piaghe sapete che alcuni autori dicono che l'umanità di Gesù Cristo è stata formata da cinque gocce di sangue di Maria ricorre ancora a sto numero cinque e non vediamo che poi ci stanno cinque virtù della Madonna per essere una grande corredentrice cinque cose umiltà ubbidienza ubbidienza fede speranza e carità quindi attenzione che a mio modestissimo avviso questo mio altro mio pensiero personale quali sono le tre virtù più grandi la più grande di tutti qual è San Paolo la carità ma poi le virtù più grandi quali sono la fede e la speranza e a seguire quali sono le virtù più grandi per tutti per me che sono un prete per tutti i laici per tutti i cattolici l'ubidienza difficilissima virtù e la sua sorella gemella perché l'ubidienza c'è la sorella gemella che è l'umiltà senza queste virtù c'è ben poco di vita cristiana lo dico a me e lo dico a tutti d'accordo in eco di quello che abbiamo sentito attenzione e l'ha cooperato in modo unico all'opera del salvatore in obbedienza in speranza e carità ardente attenzione a quale fine ecco la caratteristica della corretensione mariana per restaurare la vita soprannaturale degli uomini cioè cioè per riottenerci riottenerci la grazia perduta riacquistarla attenzione restaurarla in latino è ad vitam animarum super naturalem restaurandam allora voi capite no qui si tratta di una ricostruzione cioè quando succede in terremoto abbiamo davanti ai nostri occhi l'aquila matrice eccetera eccetera lì è stato distrutto tutto bisogna rimetterlo in piedi capite l'opera della redenzione è stato un ripristino di una distruzione operata dal peccato originale a questa distruzione ha cooperato attenzione cominciamo a fissare punti in modo unico e del tutto singolare la madonna attraverso cinque virtù e soprattutto con il culmine delle sofferenze vissute ai piedi della croce di gesù perché perché la vita della grazia fosse restaurata in noi quindi già questo significa che se durante l'unica messa voi sapete che la messa è una diceva ah dononardo se è impazzito ha detto che la messa è una no non la messa è una la messa è stata celebrata il venerdì santo basta il giovedì santo Gesù ha fatto l'anticipo del venerdì santo noi facciamo il seguito ma ogni messa che noi facciamo è una attualizzazione del venerdì santo il sacrificio eucaristico dice la chiesa è la ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce il cui la unica differenza è che è incruento rispetto a quello cruento paolo sesto misterium fili san paolo sesto d'accordo basta e l'acqua unito al vino sia segno della nostra unione già ci dice che le lacrime della madonna hanno concorso alla validità della prima messa ok e alla sua efficacia della prima ed unica messa che è quella del calvario per questa ragione è stata per noi attenzione madre nell'ordine della grazia questo è un termine bomba un'altra bomba atomica non significa madre nell'ordine della grazia attenzione se io non ci avessi una madre nell'ordine della natura io Leonardo non ci starei d'accordo perché perché da quando da dopo Adam ed Eva sicuramente perché Adamo l'ha fatto direttamente il padre eterno Eva l'ha generata Adamo ma il resto nascono così cioè io ce devo avere una madre per forza d'accordo cosa vuol dire dire che Ramadonna è madre nell'ordine della grazia vuol dire che senza la maternità di Maria la grazia in te non ci starebbe capite perché dopo cioè ripeto andiamo verso la conclusione perché per oggi sta sto dipende tutto dalla disposizione divina ma una volta che Dio ha deciso una cosa o le cose fanno come dice lui o le cose non si fanno per niente vi faccio subito un esempio se Dio ha deciso che la Messa perché si attui qui ed ora il sacrificio della croce deve essere celebrata da un individuo battezzato di sesso maschile ordinato con il sacramento dell'ordine con la materia del pane azimo e del vino di uva e pronunciando le parole della consagrazione così come la Chiesa le dice se manca una sola di queste cose la Messa non c'è d'accordo come ha spiegato San Giovanni Paolo II se un vescovo ordina una donna non è che noi non vogliamo non vogliamo ordinarle capito che problema ci sarebbe che problema ci sarebbe ma se un vescovo ordina una donna quella donna non ci diventa non ha il potere di farlo d'accordo perché il soggetto dell'ordinazione sacerdotale è un battezzato maschio capito se io vado a celebra la Messa col pane azimo e la Coca Cola cioè quello sangue di Cristo non ci diventa quindi capite cosa significa che se la Madonna non avesse fatto tutto quello che doveva fare subordinatamente chiaramente al disegno divino nella redenzione sarebbero stati degli intoppi capite è chiaro che tutto dipende dal beneplacito della divina volontà diciamo perché il nostro Signore ha bisogno di me per celebrare la Messa certamente no certamente in teoria no e non certamente di me in quanto individuo ma se lui ha stabilito che la Messa sia celebrata da un individuo di sesso maschile battezzato validamente ordinato per esempio se un prete si inventa le parole della consagrazione dovete chiamare il vescovo d'accordo perché l'unico caso in cui veramente una Messa è invalida senza nessun dubbio se quello si è basato sull'altare adesso si dica un'altra voce quindi tutti possono controllare deve dire questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi e deve dire questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza dette queste cose chiunque sia quel prete la Messa è celebrata e se ti deve fare la comunione ti prende il corpo di Cristo d'accordo non c'è altro da osservare ma quelle cose devono essere osservate perché se il prete si inventasse le parole della consagrazione la Messa non è buona d'accordo tutto dipendente dalla divina volontà ma una volta che poi la divina volontà sceglie date le disposizioni o tutti fanno quello che devono fare o le cose non funzionano ok capito quindi era necessario che 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 la ritenzione si compisse nel modo voluto da attraverso la morte cruenta del figlio di Dio assolutamente parlando San Tommaso dice no Dio sceglie quello e se Gesù Cristo non fosse morto in croce non c'è fosse non fosse stato che cosa avrebbe successo questo non riguarda mica solo la morte facciamo l'ipotesi per assurdo una volta che quello è il decreto quello si deve fare quello si deve fare ecco perché Gesù Cristo dice è necessario che io soffra è certo che è necessario perché una volta che questo è stato deciso poi una volta che Dio decide quella cosa diventa necessaria d'accordo bene adesso lo vediamo la prossima volta ragazzi la mia benedizione a tutti e alla prossima puntata sulle frequenze dirate un buon consiglio e su Maria non cansatis Ave Maria e sulle frequenze e sulle frequenze e sulle frequenze a tutti e sulle frequenze